Profanata la storia di Giorgia, offesa la sua lotta contro la malattia e violato il suo testamento spirituale a non mollare mai, è stato hackerato il profilo Instagram di Giorgia Libro, la ragazza di 23 anni, morta a Ferragosto per colpa di una forma di linfoma particolarmente aggressivo. L'account della giovane padovana contava 75.000 followers da ogni parte d'Italia, di impadronirsene è stato un fake con un nome di donna che si è impossessato delle sue foto, con commenti vuoti e ammiccanti eppure volgari. Immediata la reazione dei tanti amici virtuali che ogni giorno rendono omaggio con preghiere a Giorgia Libro, dura anche la reazione del fidanzato che ha definito la profanazione del profilo Instagram come un fatto indegno e inqualificabile e ha fatto subito oscurare la pagina social della sua fidanzata.